Ciao a tutti, oggi se vi va realizzeremo insieme questi orecchini che ho deciso di chiamare Manunca, che è il nome di un fiore, anche perché nel momento in cui ho realizzato soprattutto il retro di questi orecchini mi davano l'impressione appunto di un fiorellino. Qui ci sono i sostegni sul retro, vi faccio vedere la particolarità, qui le rocaie non corrono lungo il bordo delle vexolo perché esteticamente non mi piaceva. Il bordo, guardate, è spostato sul retro, però nonostante ciò sono abbastanza solidi e stanno su bene. Ecco, vi faccio vedere. Effettivamente hanno una forma bombata, ma sono proprio così. Nulla, io spero che vi piacciano. Un piccolo avvertimento, io ho utilizzato questi cabochon doppio fuori da 7 mm della finitura pacifica o pacifica, adesso non so esattamente come si pronunci, però ve la sconsiglio vivamente perché perdono il colore. Devo dire, mi hanno creato non pochi problemi nella realizzazione di questo tutorial. E nulla, intanto invece vi faccio vedere questi orecchini perché poi ci sono, questo era il prototipo, ci sono tanti cabochon doppio fuori che invece hanno dei colori bellissimi e che non danno nessun problema, per cui la scelta è comunque molto ampia. Vi ripeto, questo appunto è il prototipo che avevo realizzato inizialmente. Vi faccio vedere anche così. Ecco come sono. Ovviamente, spero che vi piacciano, adesso vi lascio l'elenco dei materiali e così iniziamo insieme a realizzarli. Per realizzare i nostri orecchini serviranno due anellini, due perni in acciaio, tondo martellato da 12 mm nella finitura oro rosa, due rivoli da 14 mm, poi 12 cabochon doppio fuori da 7 mm, e questi sono nel colore Pacifica Heldberry, poi serviranno 24 Vexolo, che misurano 4x7 mm, e queste sono nel colore Alabaster Lila Gold Luster, poi serviranno sempre 24 Gem Duo, e queste sono nel colore Saturated Metallic Hazel, e misurano 8x5 mm, poi le Rokai Miyuki 11.0, e queste sono nel colore Duracot Galvanized Eggplant, e le Rokai Miyuki 15.0, e queste sono nel colore Duracot Galvanized Champagne. Poi servirà il filo di nylon monofilamento da 0,20 mm, che io sempre vi consiglio, vi lascio nell'info box tutte le informazioni necessarie, tra cui dove trovarlo, come farlo passare nella cruna del lago numero 11 o numero 12, e in questo caso per gli orecchini utilizziamo l'ago numero 11, però se avete il numero 12 per fare giusto i passaggi finali, beh, questo potrebbe essere utile, perché alla fine dobbiamo ripassare un po' di volte nelle 15.0. Innanzitutto dobbiamo mettere sull'ago 6 Rokai 11.0 alternate a 6, che aboccio un doppio foro da 7 mm, come vedete, tutti ovviamente nello stesso foro, nello stesso verso. Io ho già portato quasi tutto alla fine del filo, e dobbiamo eseguire la chiusura a cerchio. Ci vediamo tra un po'. Magari la facciamo insieme, la chiusura a cerchio, velocemente. Quindi avvolgiamo sulle nostre dita il filo con le perline, ripassiamo attraverso tutte le perline inserite, per come le troviamo. Ci inseriamo in tutte le perline e facciamo. Ovviamente nel momento in cui i capi del filo si congiungono, dobbiamo fare due nodi. Magari forse ho lasciato troppo spazio dietro, qui nel filo, nel capocorto, quindi tiro un po'. Ovviamente facciamo i due nodi e poi nascondiamo il capocorto del filo. Fatto quello che vi dicevo, ci portiamo ad uscire da una rocaille e mettiamo sull'ago 9 rocaille 11.0 e andiamo a inserirci nella rocaille successiva. Possiamo anche piegare un po' il lavoro. Tiriamo il filo e avremo ottenuto un archetto, però dobbiamo subito risalire nella rocaille che abbiamo qui su, perché vedrete, questi archetti poi avranno tra loro in comune questa rocaille. Infatti adesso aggiungeremo 8 rocaille, sempre 11.0. Eccole. Eccole. E con queste 8 rocaille andiamo a inserirci nella rocaille successiva. Tiriamo il filo e ci ritroveremo così. E dobbiamo però andare a risalire di nuovo nella rocaille che abbiamo subito su. E ci troveremo così. Adesso ripetiamo questo passaggio solo per altre tre volte, perché l'ultimo passaggio lo faremo insieme. È un po' diverso. A tra poco! Infatti nell'ultimo passaggio noi dovremo mettere solo 7 rocaille 11.0, perché una rocaille in comune ce l'abbiamo da questa parte, ma abbiamo anche l'altra rocaille con cui dobbiamo congiungerci dall'altro lato, qui a destra. Per questo metteremo solo 7 rocaille e andremo a inserirci nella rocaille, però questa volta, che è la prima del primo archetto che noi avevamo realizzato. Quindi intanto ci inseriamo in questa rocaille. Poi però tiriamo il filo. Si formerà già l'archetto, ma dobbiamo andare a inserirci ovviamente anche nella rocaille di base, quella proprio dell'inserimento iniziale, quella che si trova tra i cavo shon doppio foro. Farà un po' di difficoltà, ma ce la faremo così. Qui tiriamo il filo in questo modo. E avremo attraversato questa rocaille di base, questa tra i cavo shon doppio foro, ma andiamo a risalire di nuovo nella rocaille, questa in comune tra i due archetti. Quindi tiriamo il filo così avremo compiuto bene questo passaggio, avremo, come dire, effettuato la congiunzione tra gli archetti. E poi risaliamo, già che ci siamo, nelle altre 4 rocaille che seguono, perché dobbiamo portarci ad uscire dalla rocaille centrale di questo archetto. Quindi uscendo da questo punto, dobbiamo mettere sull'ago solo una rocaille 11.0 e ci andiamo a inserire nella rocaille centrale dell'archetto successivo. Siccome adesso questo archetto in pratica è composto da 7 rocaille, perché le due laterali sono in comune, andremo nella quarta rocaille libera che abbiamo qui, che sarà quella centrale, vi faccio vedere, in questo modo e tiriamo il filo. Tiriamo il filo e ci ritroveremo così, ovviamente si inizierà a stringere l'incastonatura. Prendiamo un'altra rocaille e ci inseriamo qui nella rocaille centrale dell'archetto successivo. Tiriamo il filo, prendiamo un'altra rocaille, ci inseriamo nella rocaille centrale dell'archetto successivo e così via. Così, ovviamente inseriremo in tutto 6 rocaille. Ne abbiamo messe 4, vi faccio vedere da quest'altra angolazione. Prendiamo l'altra rocaille, andiamo a inserirci nella rocaille centrale dell'archetto. Visto che è una cosa abbastanza rapida, l'abbiamo realizzata insieme. E poi andiamo nella rocaille centrale dell'archetto successivo, che poi è anche quella da cui eravamo partiti, vedete il filo, e poi attraversiamo anche la rocaille che segue e poi vedrete, andremo a passare di nuovo in tutte queste rocaille appena attraversate, perché dobbiamo stringere l'incastonatura. Io mi sono già introdotta, diciamo, nelle rocaille successive. Ma prima di prendere i rigoli, intanto attraversiamo ancora un po' di rocaille che seguono, quindi sia la rocaille di punta dell'archetto che la rocaille aggiunta, perché, come qualcuno di voi si ricorderà, io di solito faccio così, proprio perché nel momento in cui andremo a tirare il filo, il cristallo rimarrà appunto incastonato già in buona parte. Ecco, poi dovremo comunque ripassare ancora un po'. E facciamo così, perché poi qui ci sono i cabochon doppio foro, che vedrete, si muoveranno un pochino, ma poi noi li sistemeremo. Intanto prendiamo i rivoli adesso, che abbiamo già fatto questi attraversamenti, tiriamo il filo e rimarrà già l'incastonatura un po', come dire, stretta. Però facciamo attenzione, perché questi cabochon tenderanno un pochino a girarsi, proprio perché dobbiamo ancora continuare a stringere qui e ripassare in queste perline. Ecco, vedete, la situazione è migliorata, adesso stringendo il tutto e poi vi faccio vedere il davanti, ecco qui. Ora, per appunto sistemare i cabochon, come vi dicevo, dobbiamo risalire in queste tre rocai, queste che vedete, che poi sono le rocai dell'archetto, quegli archetti iniziali che avevamo realizzato, e uscendo da qui, dalla terza rocai dell'archetto esclusa alla punta, mettiamo sull'ago due rocai 11.0 e ci andiamo a inserire nel foro libero del cabochon, questo che si trova appena sopra. Noi usciamo da queste tre rocai di destra e andiamo nel cabochon, che troviamo a sinistra. Poi prendiamo due rocai di nuovo e ci inseriamo nel... Vedete questo, sempre le tre rocai che abbiamo qui sotto, ma ne attraversiamo in realtà solo due, quindi in una parte dell'archetto che abbiamo sotto. Ne attraversiamo solo due, perché qui invece andiamo a risalire accanto, e quindi facendo un passaggio che poi ricorda le R in bonno, e quindi andiamo a risalire in queste due rocai che abbiamo proprio accanto, dell'archetto vicino, per ritrovarci nella stessa posizione di partenza. Infatti adesso di nuovo stiamo uscendo dalle rocai che si trovano qui a destra di questo cabochon. Prendiamo intanto le due rocai 11.0 e ci inseriamo nel foro libero del cabochon, poi riprendiamo le due rocai 11.0 e ci andiamo a inserire solo in due di queste rocai che, tenendo bene il lavoro, si trovano a sinistra del cabochon da cui stiamo uscendo, solo in due. Tiriamo il filo, risaliamo dall'altra parte, sempre nelle ultime due rocai di questo... praticamente di questa parte dell'archetto, saliamo su, tiriamo il filo e ripetiamo questi passaggi. E quindi inseriamo le due rocai per tutti i cabochon che ci restano, a destra e a sinistra dei vari cabochon. Ecco, tiriamo insieme il filo dell'ultimo passaggio, e ricordiamoci proprio di farlo bene per far sistemare queste rocai al loro posto. E poi però dobbiamo andare comunque a risalire nelle due rocai che avevamo accanto, come abbiamo fatto finora per inserire appunto queste rocai. Ci inseriamo in queste, intanto, in queste due, e poi dobbiamo attraversare anche quelle altre due che vedete, che sono quelle aggiunte, le prime che avevamo inserito, perché dobbiamo andare a posizionarci nel punto dal quale fare invece il giro successivo. Così. E ci inseriamo nel foro superiore di questo cabochon. Ci inseriamo qui, tiriamo il filo, e adesso possiamo girare il lavoro qui dal davanti. A questo punto, siccome stiamo andando con il filo verso destra, dovremo mettere questa sequenza, e cioè le gem duo posizionate in questo modo, con la parte bombata verso di noi, ma entrando nel foro superiore. Perché questo? Perché nel momento in cui giriamo infatti l'ago, e quindi ci inseriamo poi sul lavoro, le gem duo si ritroveranno così. E quindi comunque la sequenza è gem duo, tra i rocai 11.0 e gem duo. Andiamo infatti a inserirci nel foro superiore del cabochon successivo, vedrete che ci troveremo nella posizione giusta, insomma. Tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Non dobbiamo fare altro che ripetere questo passaggio, lo facciamo un'altra volta, sempre gem duo, tra i rocai 11.0 e la gem duo. E ci andiamo a inserire nel foro libero, no, meglio nel foro superiore del cabochon successivo. Tirando il filo ci ritroveremo così. Terminiamo il giro e ci vediamo qui tra un po'. Tiriamo il filo dell'ultimo passaggio e ci ritroveremo così. Come vedete stiamo uscendo dal cabochon, ma dobbiamo attraversare di nuovo questo passaggio, che è poi il primo che avevamo realizzato. Quindi la gem duo, le rocai che seguono, e quest'altra gem duo e ancora andiamo oltre. Nel cabochon che segue e poi nella gem duo che segue. Facciamo questo perché dobbiamo stabilizzare questa chiusura del giro per poi fare il passaggio successivo. Quindi adesso che abbiamo attraversato un passaggio, come dire, senza fare nulla, senza aggiungere nulla, ma solo per stabilizzare le perline, stiamo uscendo da questa gem duo, che vedete rispetto al cabochon doppio foro, si trova a destra. E poi andiamo a passare dal foro basso al foro alto di questa gem duo. e ci inseriamo però anche nella gem duo che abbiamo a sinistra del cabochon. Così. Tiriamo il filo e ci ritroveremo così. E da questo punto mettiamo sull'ago una vexolo in questo modo e tre rocai 15-0. Avviciniamo al lavoro, ci ritroveremo così, così, e andiamo a inserirci nel foro libero della vexolo. In questo modo. Tenendo fermo il lavoro e tirando il filo, ci ritroveremo così. Faccio vedere bene. In questo modo. Ma adesso prendiamo una rocai 11-0 e ci andiamo a inserire nella rocai centrale di queste tre che abbiamo tra le gem duo. Tiriamo il filo, vedrete che si chiarirà meglio adesso la situazione. Ci ritroveremo così. A questo punto dobbiamo mettere sull'ago una rocai 11-0, una vexolo, nel modo in cui vi faccio vedere tra un attimo, e tre rocai 15-0. questa sequenza così, quindi la rocai 11-0, poi la vexolo passando attraverso il foro più largo, questa volta c'è più largo più che altro, nella parte più grande della vexolo, e poi le tre 15-0. E cosa facciamo? avviciniamo di nuovo il tutto al lavoro, ci ritroveremo così, ci andremo a inserire nel foro libero che questa volta è della parte più stretta della vexolo, e poi anche, già che ci siamo nella gem duo e nella gem duo successiva. Così. tiriamo il filo e ci ritroveremo così. A questo punto dobbiamo mettere sull'ago una vexolo nel modo in cui vi faccio vedere tra un attimo, e tre rocai 11-0, così. Avviciniamo anche questa volta al lavoro, ci ritroveremo così, ecco che qui si verrà a formare questa specie di fiocco sopra il caboscio a un doppio foro in pratica. Ci andiamo a inserire nel foro della vexolo che abbiamo a destra, e quindi ci ritroveremo così, in questo modo, ma proseguiamo andandoci a inserire di nuovo nelle due gem duo, nei fori superiori delle due gem duo, così, e adesso si chiarirà meglio il lavoro, tiriamo il filo, ci ritroveremo così, vi faccio vedere bene, ma ancora meglio sarà quando andremo a risalire qui, nel foro della parte stretta della vexolo, tireremo il filo, ci ritroveremo così, così potremo tirare bene tutto quanto, e poi prendiamo tre rocai 15-0, eccole, e ci andiamo a inserire nel foro libero della parte più larga della vexolo, ma non andiamo subito nelle rocai sotto, perché dobbiamo prima prendere una rocai 11-0, e poi inserirci nella rocai centrale di queste tre che abbiamo tra le gem duo, quindi il passaggio sembra difficile, perché solo l'avvio questo che è un po' più complicato, ma dopo diventerà semplice, infatti io adesso lo ripeto, come vedete noi qui avremo formato metà del fiocchetto, che io intendo qui su, e invece dopo li faremo di seguito, insomma, qui poi andremo a congiungere questa parte qua, e infatti ora metteremo sull'ago una rocai 11-0, una vexolo nella parte più larga, e tre rocai 15-0, avviciniamo al lavoro, ci ritroveremo così, attraversiamo, quindi ci inseriamo nel foro libero della parte stretta della vexolo, poi attraversiamo anche le due gem duo, i due fori liberi delle gem duo, così, e ci ritroveremo appunto così, tirando il filo, questa vexolo si andrà a sistemare, qui si formerà, vedete, un incrocio di 5 rocai, qui dobbiamo aggiungere la vexolo e le tre rocai 11-0 che andiamo a prendere, nella vexolo ci inseriamo nella parte stretta, come vi faccio vedere adesso, avviciniamo al lavoro per comodità, ci ritroveremo così, andremo a inserirci nel foro della vexolo inserita appena prima, nella parte stretta, ovviamente, poi, se riusciamo, attraversiamo anche la gem duo, altrimenti, teniamo fermo il lavoro e attraversiamo intanto la vexolo, poi, se possibile, le due gem duo, ecco qua, poi, tiriamo il filo, ma, possiamo tirarlo meglio, nel momento in cui attraversiamo anche la vexolo, nella parte stretta, tiriamo il filo, teniamo un po' ferma la situazione, ci ritroveremo così, poi prendiamo le tre rocaille 15-0 e ci andiamo a inserire nel foro libero della vexolo, che è anche quello della parte più larga, tiriamo il filo, ma prima di congiungerci al lavoro, ricordiamoci di mettere una rocaille 11-0 e andarci a inserire nella rocaille centrale di queste tre che abbiamo sotto, per poi ripetere questi passaggi. tiriamo il filo, ci ritroveremo così, io magari vi scriverò il minuto da cui ripartire e però anche ci rivediamo qui per congiungerci alla prima vexolo, che vedete forma metà diciamo di questi fiocchetti ideali che si vengono a formare sui cabochon doppio foro, ci vediamo tra un po'. Come promesso terminiamo insieme il giro, vi faccio vedere la sequenza da inserire perché noi stiamo uscendo ora da questa rocaille che è quella centrale tra le gem duo ed è l'ultima che abbiamo da sistemare. Come vedete qui c'è dello spazio tra le gem duo che noi adesso andremo a compattare e mettiamo sull'ago come sempre come abbiamo fatto anche prima una rocaille 11.0 una vexolo in questo modo e tre rocaille 15.0 così avviciniamo al lavoro e poi andiamo a inserirci nel foro libero della vexolo che è anche la parte stretta della stessa e andiamo intanto nella gem duo che abbiamo sotto tiriamo il filo e ci ritroveremo così poi dobbiamo attraversare anche la gem duo che abbiamo a sinistra e se riusciamo contemporaneamente la vexolo ma vedo che non è agevole quindi attraversiamo intanto la gem duo tiriamo il filo e poi attraversiamo la vexolo che avevamo qui che era la prima che avevamo inserito tiriamo il filo e guardate le parti si congiungono intanto prendiamo le tre rocaille 11.0 le ultime tre rocaille 11.0 che useremo eccole e ci andiamo a inserire qui nella parte stretta della vexolo che viene appena prima tiriamo il filo scusate tiriamo il filo tirando bene ci ritroveremo così ma sapete che non possiamo tirare bene fino a quando non abbiamo attraversato la gem duo che si trova sotto la gem duo che si trova sotto ma a sinistra e poi come sempre vi dico che potremo tirare bene quando avremo completato il giro e lo faremo attraversando anche il foro della vexolo che è quella a cui dovevamo congiungerci e che è la prima che avevamo inserito infatti adesso tiriamo bene il filo e ci ritroveremo così ecco quale sarà la situazione ed ecco il nostro orecchino che come vedete è vero che questi passaggi sono stati un po' intricati però in sostanza abbiamo finito l'orecchino dobbiamo solo fare i sostegni sul retro e per fare questo intanto attraversiamo le tre rocai 15-0 che abbiamo già sulla vexolo tiriamo il filo e ci vediamo qui tra un attimo per proseguire e intanto per farlo giriamo il lavoro mettiamo sull'ago 11 rocai 15-0 e ci andiamo a inserire intanto in queste in queste due rocai che erano quelle che avevamo aggiunto vi ricordate in uno dei passaggi precedenti e ci troviamo girando il lavoro a destra del cabochon doppio foro qui e tiriamo il filo poi attraversiamo anche la rocai che viene dopo non l'ho fatto in un unico passaggio perché effettivamente è scomodo perché hanno una diversa inclinazione ma attraversiamo anche questa rocai quindi tre a partire dall'alto le guardiamo insieme uno due e tre ne attraversiamo poi ci spostiamo qui sulla destra e attraversiamo intanto quella come dire che si trova in corrispondenza di quella da cui stiamo uscendo ma appunto più a destra tiriamo il filo e ci troveremo così poi risaliamo anche in queste due che erano le due aggiunte e tiriamo bene il filo prendiamo due rocai 15-0 eccole ci andiamo a inserire nella terza rocai a partire dal basso contandole dal basso di queste appena inserite tiriamo il filo e aggiungiamo otto rocai 15-0 con queste otto rocai ci andiamo a inserire qui nelle tre rocai 15-0 che abbiamo sulla vexolo ma anche nelle rocai che seguono sia queste 11 che abbiamo appena attraversato vi faccio vedere intanto ci troveremo così e poi attraversiamo anche queste tre che seguono quindi tutte le rocai che abbiamo sulle vexolo così tiriamo il filo e ci ritroveremo così e qui avremo questi sostegni sul retro che si andranno a rafforzare in una fase successiva stiamo uscendo da questo punto che come vedete è in pratica lo stesso dal quale abbiamo cominciato ma rifacciamo questo passaggio giusto per sicurezza un'altra volta rimettendo sull'ago le 11 rocai 15.0 eccole e ci andiamo a inserire di nuovo in queste due rocai che abbiamo appena sotto tiriamo il filo e poi attraversiamo anche l'altra rocai perché facciamo questo per ancorarci la parte che poi è la più solida di tutto l'orecchino quella dell'incastonatura vera e propria tiriamo il filo quindi risaliamo dall'altra parte sempre attraversando la rocai che si trova proprio accanto a quella da cui stiamo uscendo tiriamo il filo si creerà una specie di herringbone saliamo su anche nelle due che erano quelle aggiunte che sono vedete già si vede un po' più mobili e poi prendiamo due rocai 15.0 e ci andiamo a inserire nella terza rocai a partire dal basso di queste appena aggiunte e poi ovviamente tre quindi le abbiamo attraversate o comunque le abbiamo sul lavoro dobbiamo aggiungere le altre otto che mancano per risalire su lungo il bordo eccole e ci andiamo a inserire nelle rocai che abbiamo sulle vexolo come al solito attraversato queste intanto tiriamo bene il filo queste rocai dovranno posizionarsi qui sul retro tiriamo bene il filo e attraversiamo anche le altre e ci ritroveremo così tirando bene il filo ci ritroveremo così qui andrà a compattarsi un po' di più la situazione quindi siamo di nuovo nel punto di partenza ripetiamo questi passaggi per tutto il giro e ci vediamo qui tra un po' tiriamo insieme il filo per fare appunto l'ultimo passaggio di questo giro e quindi avremo realizzato i sostegni e nel frattempo io mi sono già portata ad uscire da questa rocai che vedete è la settima se iniziamo a contarle proprio a partire dalle 11.0 quindi dopo 7 rocai 15.0 usciamo con il filo e a questo punto per compattare questo bordo per compattare l'intera lavorazione un po' di più mettiamo sull'ago 2 rocai 15.0 e ci andiamo a inserire ovviamente nella parte corrispondente nella parte simmetrica da questa parte qui quindi contiamo sempre 7 rocai e ci andiamo a inserire qua vi faccio notare che appunto è la vedete quarta diciamo di queste che avevamo aggiunto quelle dell'archetto poi aggiunto dopo e poi comunque passiamo nelle altre tre che erano quelle che si trovavano già da tempo sulla vexolo attraversiamo tutto il resto con un po' di pazienza tutto il resto delle terine che seguono tirando il filo vedete si va a come dire tendere meglio la situazione a compattare un po' il lavoro attraversiamo queste rocai di nuovo attraversiamo ne abbiamo attraversate 4 di quelle dopo le 11.0 attraversiamo le altre 3 e come vi dicevo usciremo dalla settima in tutto delle rocai e qui aggiungiamo di nuovo le due rocai 15.0 e poi ci inseriamo sempre diciamo in questa che è la rocai corrispondente dall'altra parte andiamo ovviamente anche nelle successive e poi come vi dicevo 4 di quelle aggiunte e 3 di quelle che già erano sul lavoro proseguiamo ancora tiriamo il filo avete visto come si tende meglio la situazione di nuovo qui andiamo uscire dalla settima aggiungiamo le due rocai e ci inseriamo da questa parte nella rocai corrispondente quindi da qui sempre ne conteremo 7 per vedere il punto in cui inserirci terminiamo il giro e ci vediamo qui tra un po' ecco e tiriamo insieme il filo per l'ultimo passaggio dell'aggiunta di queste due rocai 15 0 tiriamo bene per tutto il giro perché da questo dipende la stabilità del nostro orecchino ma ci andiamo già a portare ad uscire dalla rocai centrale di queste tre appunto che si trovano sulle vexole di queste tre 11 0 perché qui dobbiamo fare il cappietto e per farlo prendiamo 6 rocai 15 0 ecco qui e come vi dicevo ci andiamo a inserire nella stessa rocai che è la centrale di queste tre da cui stiamo uscendo e appunto tiriamo il filo ripassiamo adesso il cappietto come vi dicevo abbiamo ripassato il cappietto però ci portiamo ad uscire poi da questo punto quindi attraversiamo le 11 0 e poi usciamo dalla terza rocai 15 0 che abbiamo di seguito sulla vexolo ma poi andiamo proprio giù nella vexolo perché dobbiamo fare i sostegni sul davanti appunto e attraversiamo poi la rocai 11 0 che abbiamo qui sotto andiamo ad attraversare la rocai 11 0 che è questa che si trova al centro di queste rocai quindi questa di incrocio e poi qui mettiamo sull'ago 4 rocai 15 0 e ci andiamo a inserire nel foro del cabochon doppio foro appunto tiriamo il filo prendiamo altre 4 rocai 15 0 e ci andiamo a inserire qui semplicemente nella rocai centrale di quelle 5 rocai che abbiamo lì di questa rocai di incrocio però a questo punto dobbiamo scendere invece nelle prime due di queste rocai che abbiamo inserito tiriamo il filo ci ritroveremo così così e a questo punto prendiamo solo due rocai 15 0 e ci andiamo a inserire nel cabochon doppio foro che segue naturalmente vedete andremo a trovarci in questo modo avremo questa specie di y rovesciata naturalmente rifacciamo questi passaggi per tutto il giro ma ci vediamo qui per concludere insieme il primo che avevamo realizzato a metà per terminare correttamente il giro prendiamo due rocai 15 0 vedete stiamo uscendo dal cabochon e andiamo a risalire solo nelle prime due queste che si trovano su di quelle quattro che avevamo inserito inizialmente perché dobbiamo completare questo passaggio ed ecco che si forma quella y rovesciata di cui vi parlavo però è ovvio che adesso dobbiamo inserirci bene in questa rocai che quella centrale delle 5 che abbiamo qui e mentre il filo qui usciva da sinistra noi entreremo da destra verso sinistra tiriamo il filo e così avremo completato correttamente il giro fatto i sostegni e poi attraversiamo la rocai proprio sotto la vexolo e poi anche la vexolo ovviamente per andare di nuovo lungo il bordo così quindi adesso ci ritroveremo lungo il bordo attraverseremo queste rocai che abbiamo qui su ovviamente a partire dalla terza così in questo modo faccio vedere in questo modo qua attraversiamo poi le rocai che seguono perché dobbiamo fare un piccolo ripasso di queste rocai lungo il bordo ovviamente mi riferisco anche a queste due che abbiamo cioè passeremo attraverso queste rocai qui le due che abbiamo usato per unire i sostegni sul retro a un certo punto facciamo due nodi e poi andiamo ancora avanti nel lavoro tagliamo il filo e avremo terminato a tra poco ed ecco gli orecchini ma nunca terminati io spero che vi piacciano mi raccomando nel caso in cui decidiate di rifarli taggatemi sui social i riferimenti sono nell'info box come vi dicevo prima vi ringrazio tantissimo per il vostro sostegno e vi do l'appuntamento qui sul canale con la prossima idea e o c'è Grazie a tutti.